Buongiorno dottori e dottoresse, benvenuti nella quinta ed ultima stagione, quinta ed ultima fase del nostro racconto della storia completa di Bitcoin. Un viaggio infinito, che sarà altrettanto infinito visto che c'è un sacco, un sacco di cose ancora che dobbiamo dire. E insomma, se sei qua per la prima volta, di nuovo ti ricordo che stai sbagliando perché devi partire dall'episodio numero 1, dalla stagione numero 1, dove abbiamo insomma preso tutta, e dico tutta, la storia di Bitcoin dal 1930 fino ad arrivare ai giorni nostri. Quindi guardala da capo che almeno capisci qua cosa ci siamo arrivati a fare. Allora, io come sempre, prima di cominciare una nuova fase, devo ringraziare immensamente TurtleCute e il podcast del priorato del Bitcoin, perché tutto il materiale che vi sto raccontando arriva proprio dalle prime 6 puntate, durante le quali Giacomo Zucco ha descritto tutta la storia di Bitcoin. Ma visto che non potevo lasciare quella perla storica solamente su Spotify, andava portata anche su YouTube, l'ho, diciamo, riassunta un po', ho eliminato un po' i tecnicismi, quelle parti magari un po' meno curiose, per raccontare comunque tutte le date e tutti gli avvenimenti importanti di Bitcoin. Ringrazio anche MuscleSatz che ha trascritto sia in italiano che in inglese tutta, diciamo, il racconto fatto nel podcast e mi è stato veramente comodo poi per fare questi video. Dottori, io direi che possiamo cominciare, ci aspetta veramente un'altra serie di episodi bella bella lunga, ma finalmente possiamo andare a capire Bitcoin dopo le Block Size War. Che è successo? Come siamo arrivati ai giorni nostri? Scopriamolo, che ci sono un sacco di fatti curiosi, scopriamoli insieme. Allora, c'eravamo lasciati con la fine delle Block Size Wars vinte dagli Small Blockers. E questo crea un sacco di entusiasmo perché si è percepito nell'aria l'indomabilità di Bitcoin. Cioè, se erano messi insieme l'80% dell'ash rate, il più grande giornale Bitcoin alla più grande conferenza Bitcoin, il più grande produttore di ASIC, i più grandi exchange e la maggior parte degli sviluppatori. In questo New York Agreement, di cui Bitcoin se ne è sbattuto clamorosamente le scatole e ha detto no, noi non modificheremo il consenso se non siamo tutti d'accordo. E con tutti si intende almeno il 95%, almeno, come minimo. E quindi, insomma, arriva un sacco di entusiasmo, tutti felici e contenti, finché, 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 il 14 novembre 2017, un programmatore di Bitcoin Cash non scopre un bug, un bug inflattivo su Bitcoin. Era molto simile a quello che abbiamo visto proprio all'inizio, corretto poi da Satoshi Nakamoto, che permetteva di creare Bitcoin infiniti. Il problema è che quel bug era già nato nel codice di Bitcoin e l'hanno risolto dopo. Questo bug, invece, era stato inserito dopo un aggiornamento. Matt Corallos, se non erro, ha fatto questo aggiornamento, insomma, per fare altre cose e ha inserito questo bug. E questo, però, ha sollevato un sacco di dubbi per dire, oh, ma, cioè, ci stiamo rendendo conto qua che abbiamo preso un po' la cosa sotto gamba? Perché, uno, il bug l'ha scoperto uno di Bitcoin Cash e non uno di Bitcoin Core, quindi già c'è qualcosa che non va. Due, nessuno si è messo a ricontrollare il codice, cioè, stiamo dando troppa importanza e troppa fama a questi sviluppatori che, va bene, sono forti, sono bravi, ma non sono infallibili. Quindi, insomma, si sono accorti che dovevano abbassare un po' le ali e dire, abbiamo vinto, siamo forti, Bitcoin è bellissimo, ma prestiamo attenzione perché è un attimo qua che mandiamo tutto a rotoli. Nello stesso periodo, anche Steam droppa definitivamente il supporto a Bitcoin. Bitcoin, insomma, dice, ragazzi, è troppo volatile, non si può fare, io vi ricordo che siamo praticamente alla fine del 2017 e Bitcoin qua stava volando, stava volando. Tra l'altro, le fee erano anche molto molto alte, in parte proprio grazie, se vi ricordate, nella stagione precedente, a quei 100 milioni che Bitmain stava spendendo per creare blocchi vuoti. Ma vabbè, il 9 di dicembre arrivano i primi contratti futures su Bitcoin autorizzati dal Chicago Board Option Exchange e il 17 di dicembre Bitcoin tocca il suo picco assoluto di quel periodo a quota 20.000 dollari. E come potrebbe iniziare meglio il 2018, se non con un crollo gigantesco e l'inizio del forse primo vero bear market di Bitcoin? Quindi diciamo che l'umore non era proprio bellissimo, più che altro tra gli investitori. Gli sviluppatori, invece, se la stavano passando un po' meglio, perché il 22 gennaio Gregory Maxwell lancia un'idea interessantissima chiamata Taproot. Ebbene, Taproot è una cosa che stiamo utilizzando oggi, che l'abbiamo integrata veramente da poco, nell'effettivo, cioè adesso stiamo finalmente iniziando ad utilizzarlo. Che cos'è Taproot? E' diciamo un aggiornamento che comprende due principali features. La prima, quelle delle Schnorr Signature. Vi ricordate le firme Schnorr che abbiamo parlato nei primi episodi? Bene, finalmente le hanno integrate perché effettivamente erano meglio. Quindi adesso che l'hanno potute testare, hanno detto, è ora di inserirle. E anche una tecnologia chiamata MUST, scritto proprio MUST, Merklyzed Abstract Syntax Trees. Insomma, una cosa complicatissima che permette però di avere contratti molto più intelligenti, potenti su Bitcoin, e quindi insomma dare molta più flessibilità alle transazioni sul protocollo. Sempre a gennaio del 2018, anche Stripe, dopo Steam, decise di droppare il supporto a Bitcoin. Anche lei dice, qua è troppo volatile, qua tutto crolla, lasciamo perdere, non accettiamo più Bitcoin, che è un casino. Il 23 marzo però accade un evento importantissimo per tutta la comunità Bitcoin. Infatti, ai tempi, il libro più famoso su Bitcoin era Mastering Bitcoin di Andreas Antonopoulos. Qual è il fatto, il problema? Non è un problema, però il punto era che si trattava di un libro, si tratta di un libro, ancora oggi io ve lo straconsiglio, ma comunque è un libro un po' più tecnico, no? Che va sulle questioni un po' più tecniche. Esce invece in quel giorno, il 23 marzo, The Bitcoin Standard, di Saiveddin Ammus, che interpreta Bitcoin da un punto di vista totalmente diverso, molto più sociale ed economico. E questo sconvolge tantissimo le comunità, perché finalmente arrivano in Bitcoin non solo tecnici, ma anche persone interessate a questo moto rivoluzionario. Michael Saylor e Jack Dorsey citano proprio questo libro come libro che gli ha orangepillati. E chiudiamo questa prima fase con il 31 marzo del 2018, quando Blockchain Lab, quella, diciamo, startup, quell'azienda fondata da Giacomo Zucco, chiude per sempre. Si era capito che fare business con Bitcoin in Italia non era proprio una cosa comoda, e quindi via, Blockchain Lab chiude. Ma continuiamo il nostro viaggio, perché nel 2018 succedono un sacco di altre innovazioni molto interessanti. Dottori, fatemi ringraziare lo sponsor di questo video, dopo aver aiutato le corde vocali a risanarsi un minimo. Bitbox è la soluzione perfetta, soprattutto nella versione Bitcoin Only, per chi vuole conservare i propri satoshi nella maniera più facile, sicura e comoda possibile. Grazie mille a Bitbox per star sponsorizzando questa serie bellissima di video sulla storia di Bitcoin. Io vi lascio qua sotto il link alla recensione sul primo utilizzo, che vedete proprio come l'USB-C, il touchscreen, la scheda SD, siano delle features incredibili, il codice open source, insomma, veramente una bomba, una bomba, e anche, è comodo che tu lo metti in tasca così e nessuno sa che tu hai 300 milioni di Bitcoin all'interno della tua tasca, o forse anche qualcosa meno, vabbè, qua dipende da quanti soldi avete a disposizione per comprare Bitcoin e da quanto presto siete entrati. Sta di fatto che, qualsiasi cifra, abbiate la soluzione Bitcoin Only, dottore di Bitbox, per me è la migliore per conservare i vostri Bitcoin. Link in descrizione anche per il codice sconto con il quale, appunto, acquistare questo bellissimo hardware wallet sostenendo me e sostenendo voi stessi. Grazie mille a Bitbox per aver sponsorizzato questa serie. Il 30 aprile, infatti, abbiamo un'innovazione tecnica da parte di Christian Decker, Rusty Russell e Olalolo Aosonunkotun, vabbè, un asiatico sicuramente, molto molto in gamba, che è il paper di L2. L2 è un altro modo di fare Lightning Network che ha diversi vantaggi, insomma, ci sono backup molto più semplici e meno rischiosi, canali a più parti e tante altre piccole cosettine che, diciamo, sono una bellissima idea ma, per funzionare, hanno bisogno anche di un aggiornamento on-chain. Questo aggiornamento viene proposto proprio nell'aprile del 2018 con la BIP 118 dal nome, appunto, SIGASH ANYPREVOUT FOR TAPROOPS SCRIPTS una cosa tutto inglese, qua, sviluppatori, cose... Vabbè, questa cosa, appunto, ci tornerà utile più tardi perché L2 sarebbe una bella novità da integrare ma, vabbè, continuiamo con il 2018. Il 3 luglio del 2018 Zucco presenta a Lisbona il protocollo RGB vi ricordate? Quello sul quale stava lavorando anche Peter Todd a Nior Sono benissimo ci, appunto, lo lancia lo presenta Giacomo Zucco poi ci lavorerà anche Orlowski se non mi sbaglio uno sviluppatore ucraino insomma, poi, fino adesso, anche nel 2022 abbiamo avuto un'altra novità su RGB perché Federico Tenga sempre un altro italiano sono patriottico ha rilasciato il primo wallet RGB se non mi sbaglio si chiama Iris Wallet e quindi, insomma, è anche qua pezzi di storia italiani su Bitcoin fanno pezzi di storia cosa, vabbè, siamo forti, siamo forti una cosa particolare molto, molto particolare accade nel gennaio 2019 quando nasce un anonimo su Twitter chiamato Hodronaut che ha l'idea di mettere in piedi una sorta di torcia lightning chiamata lightning torch cioè, si voleva vedere quanto lightning fosse capace di instradare veramente transazioni anche, insomma, di un certo rilievo e quindi si crea questa staffetta dove lui inizia a inviare 100.000 satoshi a una persona che gli crea un invoice questa persona avrebbe dovuto aggiungere 10.000 satoshi di tasca propria e fare la stessa cosa con un'altra persona quindi far girare questa sorta di torcia olimpica ogni volta ingrandendola sempre di più l'esperimento va benissimo va alla grande tant'è che arrivano anche i primi scammers perché, cosa succede? che iniziano a creare profili appunto finti per ricevere questa lightning torch e scappare con il bottino senza continuarla e indovinate che è stato fregato? un italiano poverino Giacomo Zucco che probabilmente non essendo del sud Italia non era abbastanza sgamato per fare queste questi tipi di vabbè sì forse non dovevo anche mettere discriminazioni Nord Italia-Sud Italia in questa serie non era necessario ma comunque sta di fatto che insomma gli fregano la lightning torch quindi lui ripaga di tasca sua tutti i satoshi che gli sono stati rubati perché insomma gli ha inviati una persona che poi è scomparsa la lightning torch riparte ma passa anche per persone importanti Elisabeth Stark Jack Dorsey finché non diventa abbastanza grande da dire vabbè ragazzi l'esperimento è riuscito doniamo tutti questi satoshi a Bitcoin Venezuela insomma che in quel periodo direi che sta continuando ad avere problemi di dittatura e iperinflazione quindi insomma hanno fatto un bel gesto il 12 aprile sempre riguardo Hodrenout c'è un altro avvenimento molto importante questa volta un po' più triste perché Hodrenout proprio grazie a questa lightning torch è diventato famosissimo e ha raggiunto tipo più di 10.000 follower su Twitter in un tempo veramente breve a questo punto cosa fa con questa nuova popolarità mette tutti in allerta da Craig Wright dicendo ragazzi fate attenzione questo è un truffatore è uno scammer si definisce Satoshi Nagamoto ma abbiamo capito benissimo che ci sta prendendo tutti in giro e quindi fate attenzione cosa fa Craig Wright quello che avrebbe fatto qualsiasi persona normale mette una taglia sulla sua testa o almeno mette una taglia per ricevere informazioni su chi fosse Hodrenout perché lui appunto era totalmente anonimo Craig Wright voleva citarlo in giudizio non sapeva come fare perché era anonimo e quindi cosa fa dice a chiunque mi dà delle informazioni io gli do bei soldi se non mi sbaglio si parla di circa 5000 dollari pagati in bitcoin Satoshi Vision cioè proprio cose wow 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 sta di fatto che un personaggio che aveva capito che poteva probabilmente trovarsi ad Oslo riesce a chiamare il suo datore di lavoro si finge un agente di polizia norvegese che sta indagando su questo account twitter il datore di lavoro gli dà tutte le informazioni nome cognome indirizzo e quindi Craig Wright riesce a citare in giudizio Hodrenout una causa lunghissima veramente costosa infatti tantissime persone poi supportano Hodrenout sia economicamente quindi con donazioni bitcoin sia anche emotivamente perché si inizia a spargere su twitter questa moda questo trend di mettersi il casco proprio come Hodrenout nella propria fotoprofilo la causa si conclude ad ottobre 2022 con la vittoria di Hodrenout insomma il giudice dice ok che lui non ti può diffamare dicendo che sei un truffatore e siamo d'accordo se non mi sbaglio tipo gli ha chiesto la cifra simbolica di un dollaro di rimborso una roba del genere però qua non ci sono prove che tu sia Satoshi Nakamoto quindi per favore satte in a casa tua la notizia un po' più triste è che poi il 23 di dicembre 2022 a quanto pare Hodrenout annuncia che Craig Wright ha chiesto ed ottenuto un ricorso a questa sentenza ma vabbè storie storie brutte vedremo come andranno a finire ma tornando a noi e alla nostra cronostoria il primo maggio 2019 viene assegnato il BIP 78 PayJoin anche qua è un'innovazione tecnologica abbastanza interessante un po' diversa dal CoinJoin perché in CoinJoin noi mettiamo tutti i fondi insieme e tutti insieme ce li riprendiamo PayJoin è qualcosa invece che io faccio con la mia controparte con la quale voglio fare uno scambio un trasferimento cosa succede? in un trasferimento normale io sono A e invio dei soldi a B quindi si vede benissimo che strada fa la transazione con PayJoin invece sia A che B pagano un indirizzo di mezzo e poi ognuno riprende le proprie parti in maniera ovviamente divisa giusta per quello che dovrebbe poi essere la transazione finale e quindi da un occhio esterno non si capisce chi sta pagando chi perché i soldi poi ritornano ad altri due indirizzi e quindi io che ne so chi ha pagato chi e dove è andato dove e quindi questo insomma è un bel aggiornamento che continua a spingere sul lato privacy di Bitcoin adesso ci accingiamo all'otto maggio ma qua prendiamoci una pausa perché accade un fatto storico mai successo prima d'ora a spingere l'ho di